Apro questo convegno ringraziando innanzitutto di essere intervenuti così numerosi, un'iniziativa che vede l'Accademia dei Filaleti per la seconda volta proporre un convegno qui a Terni, l'altro l'abbiamo fatto, chi c'era lo ricorderà sicuramente, ma lo ricorda tutti, sul centenario del genocidio armeno e noi vogliamo proseguire negli incontri con la città perché vogliamo far sì che la cultura ritorni un momento centrale nella formazione dell'individuo, nella formazione della persona e dei tanti giovani che fortunatamente vedo che questa sera riempono la nostra sala. Come già è accaduto però quando abbiamo parlato degli armeni. Questo perché le nuove generazioni sono il nostro futuro, sono il nostro futuro al quale noi dobbiamo trasmettere dei valori, dei significati.